Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino sono una delle coppie uscite dall'ultima stagione di Uomini e Donne Da quando sono usciti dalla studio del dating show si Canale 5 appaiono sempre insieme La coppia sembra essere molto felice. Molto attivi sui social, dove condividono con i loro follower momenti della loro quotidianità Negli ultimi tempi sono stati in vacanza insieme e in Spagna a conoscere la famiglia di lui Come detto postano molti momenti della loro vita e proprio durante uno di questi Sonia Pattarino ha fatto una dedica speciale al suo Ivan La bella sarda ha approfittato del momento in cui lui stava facendo le pulizie per scrivergli una frase che ha lasciato a bocca aperta tutti i Falahual La storia di Ivan e Sonia.Il tronista spagnolo ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne con la sua simpatia e la sua spontaneità Sono scese per lui tante ragazze ma alla fine ha deciso di tenerne solo due, Sonia Pattarino e Natalia Paragoni Nonostante gli alti e bassi i tre sono entrati nella villa per l'ultima parte del percorso, forse quella decisiva, almeno per quanto ha detto il tronista Tantissime emozioni hanno regalato le sorprese che le corteggiatrici hanno riservato lo spagnolo A far saltare il banco, poco prima della scelta, è stato l'arrivo di Andrea Zelletta, il nuovo tronista del programma di Canale 5 Quest'ultimo ha voluto parlare con Natalia per capire cosa provasse nei suoi confronti Ivan ha reagito molto male all'incontro, e ha deciso di lasciare libera la corteggiatrice Di conseguenza la corteggiatrice è andata via dalla villa Lo spagnolo a quel punto ha deciso di scegliere Sonia, che, dopo una lunga ed estenuante attesa, si è presentata alla scelta dicendo di fatto sì La dedicasi Sonia Pattarino.Come detto in precedenza Sonia Pattarino ha voluto fare una dedica molto dolce al suo fidanzato I due erano a casa e lui stava facendo semplicemente le pulizie e lei ha condiviso questo momento con un Instagram story iscrivendo non ti lascerò mai Una dedica che non ha lasciato indifferenti i loro fan che hanno commentato la storia e l'hanno arricchita con migliaia di like Staremo a vedere se Ivan risponderà via social alla sua fidanzata. Fatto sta che la storia tra i due, fortunatamente, sembra andare per il verso giusto